Stagione turistica di segno positivo in Campania, non solo nelle località balneari, come confermano i dati sul successo della vacanza in agriturismo. Maria Laura Massa. La paura di attentati e i prezzi allettanti hanno fatto la differenza. È l'estate degli agriturismi, 8% di presenze in più rispetto a un anno fa. E comunque, stando ai dati elaborati da Coldiretti e Terra Nostra, 7 turisti su 10 hanno scelto di visitare cantine, frantoi, aziende agricole. Il trionfo della terra, insomma, dei sapori genuini, della quieta e della natura. Alla Campania il primato della vacanza green, con il suo inestimabile patrimonio agroalimentare, abbinato alle bellezze e attrattori culturali del territorio. Overbooking per gli agriturismi in posizione strategica per gli scavi di Pompei e tutti i siti archeologici vesuviani. La reggia di Caserta, le bellezze della costiera amalfitana. Ma il successo va dalle isole al Cilento, passando per l'Appennino, Trasannio e Irpinia al Matese, con le loro millenarie tradizioni enogastronomiche, i prodotti tipici della cultura contadina, le sagre nei borghi antichi. La rete degli agriturismi cresce insieme ad un modello di agricoltura sempre più attenta all'ambiente, custode del territorio e di un patrimonio che tra DOC, DOP e IGP conta ben 468 prodotti agroalimentari tradizionali e la Campania è la prima regione d'Italia per varietà. Grazie 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 Grazie